Leggendo tacito, non mi capacito, mentre mi musico, come uno storico. Grande esultazione da parte dell'amministrazione comunale di Fermo quando Giovannotti, in videoconferenza con altre amministrazioni comunali italiane, ha ufficializzato che il nuovo tour Giova Beach Party si terrà come unica tappa nelle marche tra le altre 12 località italiane in calendario sul lungomare del Lido di Fermo nei giorni 5 e 6 agosto 2022. Nella sala del gabinetto del sindaco a rappresentare il comune erano presenti il vice sindaco Mauro Torresi, l'assessore alla cultura Micolo Lanzidei, l'assessore alle politiche ambientali Alessandro Ciarrocchi, l'assessore al turismo annale i saceretani. Siamo veramente molto contenti di aver avuto questa grande notizia e insomma diciamo che forse non è stata una sorpresa nel senso che quando abbiamo saputo che Giovannotti stava decidendo di scegliere delle location tra quelle insomma già scelte nel 2019 abbiamo subito incrociato le dita e pensato che potevamo essere noi ad essere riscelti e così è stato. In realtà ci è stato detto che insomma nel 2019 è stata una grandissima festa, l'abbiamo vissuta tutti ma soprattutto che è andato molto bene tutto sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista dell'organizzazione. Qual è il motivo che ha indotto a riconfermare la spiaggia del Lido di Fermo? Giovannotti stesso l'ha detto nella conferenza stampa, si è trovato molto bene a Lido di Fermo, molto bene anche a livello ambientale, la nostra spiaggia il litorale nord di Casabianca si presta molto, c'è una pista ciclabile, c'è una fascia verde e poi c'è tutta la parte dell'arenile e quindi ci ha riscelti e siamo veramente contenti perché abbiamo tutta quella promozione turistica che ovviamente fa sì che sia una data addirittura l'unica per le marche e l'unica del centro Italia. Un evento strepitoso che però anche in considerazione dell'enorme flusso di persone che in passato hanno preso parte a questo concerto potrebbe avere un impatto ambientale negativo. Da questo punto di vista il collega Ciarrocchi, assessore all'ambiente, ha già sentito le varie associazioni e l'ha fatto nel momento in cui abbiamo ricevuto la notizia e quindi c'è stato già un passaggio con loro e lo sta facendo anche in questi giorni. Un tour come annunciato dal cantante toscano, sempre attento alla sostenibilità e al riciclo, ricco di ospiti e con un sound system giamaicano. La prevendita dei biglietti è già online sul circuito Ticket One, con prezzi che pattono da 125 euro per entrambe le giornate o per chi volesse assistere alla sola data del 6 agosto la cifra si riduce a 65 euro. Ipotizzando una situazione pandemica sotto controllo, si stima una capienza al 100% senza l'uso di mascherine. Quindi un forte bocca al lupo! Grazie e viva il lupo sempre!